Signore e signori, ciao a tutti, sono il vostro amico Rudy, imparo con la casa grande giallo, allora una cosa che veramente mi rincorcia, perché ancora c'è chi dice che la matematica non è un'opinione, allora Porco Dinci si è mandato a calcolare l'ipotenusa dell'iperbole dell'intestazione di Porco Dinci, verrà una cosa assurta, gli assi cartesiali, cosa sono gli assi cartesiali? Proprio una cosa, io, ancora c'è chi dice che la matematica non è un'opinione, proprio così ci va gestato con la testa, insomma è una cosa, una realtà, devastante, lasciare pensare.